hanno bisogno di aiuto pasqua lì viene ad aiutarli barbara viene a dare una mano a nicola qua perché c'è troppa carne ma non parla tutta la carne lì ho detto dai una mano a nicola perché c'è troppa roba da fare lì a mangiare no io questo non intendevo ma comunque va bene dai ma forse è meglio il vino che asciuga di più sudore un bicchierotto di quello francese forse mezzo bicchiere a testa e tu sei pugliese ma tua moglie mi sa che un po di pugliesismo ce l'ha pure lei perché perché gli piace un casino stare a sola